Sei diventato popolare all'improvviso? Congratulazioni, sei il re del college! Chi vincerà questo concorso e diventerà il nuovo ragazzo della regina del college? Bruce il lottatore? Fate un po' di casino! No! Chiamami! Signor sombrero? No, grazie! Un re di TikTok? Sono io, Tintok! Ehi, mi giri un video? E' venuto bene? Grazie, ragazza! No, 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 no! No, no, no! Wow! Ups! Scusa! Jennifer, svegliati! L'abbiamo trovato! Ecco il mio ragazzo! Il nuovo re del college! Il nuovo re del college? Sì! Oh, tutti i tavoli della mensa sono occupati! Seguimi! Un secondo! Ecco il nostro tavolo! La regina del college ha la sua caffetteria VIP! Ed ecco il dessert! Grazie, professore! Ehi, Jen! Sputiamo sul nostro re! Ragazzi, ci sto! Stai davvero sputando come un caffone? Ecco una cannuccia reale con un mirino speciale! Provala! Wow! Carico! Fuoco! Centro! Chi è stato? Professore, sono stata io! Ah, Goldie! Non preoccuparti! Ecco! Hai vinto un premio per la tua grande mira! Oh, che carino! Guarda! Abbiamo vinto un pinguino! Eccolo che arriva! Preparati a scattare! Attento, Andy! Oh, scusa! Non volevo! Va tutto bene! Allora, ha funzionato! Manda la foto a chi spettegola! Cosa? Goldie! Guarda! Il tuo ragazzo sta baciando un'altra! Dovrò occuparmene io! Ah! Scusa! Ehi, Goldie! Attenta! Andy, cosa significa questo? Vorrei chiederti la stessa cosa, Goldie! Siamo caduti nello stesso scherzo! Ragazzi? Oh, sua maestà! Grazie per esservi presentati alla mia lezione! Ciao, tesoro! Ma cosa indossi? Sei del circo? Aspetta! Ecco, prova questo outfit! No, c'è qualcosa che non va! Aspetta! E questo? Provalo! Solo un secondo! Fammi fare una foto! Ok, siamo d'accordo che non è il tuo stile! Buon pomeriggio, mister Cosseno! Oh, giusto! Finalmente un buon vestito! Andiamo, mio re! Wow! Questo è imbarazzante! Scusatemi! Smettete di fare le foto! Attenzione! La regina sta arrivando! La regina sta arrivando! Chi viene alla lavagna? Goldie, vieni tu! Ok! Attenzione! La regina sta arrivando! Jennifer, dove sono le rose? Sono finite, vostra maestà! Scusi, non posso continuare! Non preoccuparti, Goldie! Avrai comunque un voto alto! Questo è il momento perfetto per il primo bacio! Ehi! Aspetta! Deve essere tutto perfetto! Ciao, Jennifer! Eccomi! Il posto è prenotato! Chiama a obra! Questo spettacolo si chiamerà Il primo bacio! Non esiste! Ci sono troppe persone qui! Non preoccuparti! Baciami e basta! Cosa? Tutto qui? Non è quello per cui abbiamo pagato! Caro pubblico! Questo è solo l'inizio! La parte migliore deve ancora venire! Goldie, bacialo! Wow! Questo è vero amore! Grande spettacolo! Tutti lo adorano! Il tuo bacio è già stato ripostato! È ora di pranzo! Cosa? Il mio gestino del pranzo sembra così triste! Oh, regina! Buon appetito! Prendi il mio pranzo! No, prendi il mio! Il mio è migliore! Cosa dovrei scegliere? Scrivi qui sotto quale pranzo dovrei prendere! Jennifer, prenderò il tuo! Sì, ho vinto! Britney, ti dispiace condividere? Goldie, è il momento di ricevere i regali! Questo è da parte di Mike! E questo di John! Oh no, ho dimenticato il compleanno! Questo è da parte di Billy! E questo da parte di Sarah! Grazie, ragazze! Tesoro, questo regalo è da parte mia! Cos'è? Un anello! Oh, è così insolito! Guarda Jennifer, non è bellissimo! Una nuova tendenza! Un anello a bullone! La regina del college in persona indossa questo anello! Mi dispiace, ma è esaurito! Ecco i risultati del test! Ho preso un buon voto! No, non va bene! Il mio ragazzo deve avere il voto più alto! Lo trasformerà in un AB+. O anche meglio, AB+. Ma questo voto non esiste nemmeno! Ora esiste! Il voto più alto è AB+. L'ordine della regina non è negoziabile! Wow! Ho il voto più alto! Il mio non è più il più alto! Essere la regina è il re del college appaticoso! I paparazzi sono ovunque! Lasciateci in pace! Basta! Ho finito di essere la regina! E io sono stufo di tutto questo! Arriva qualcuno! Nasconditi! Ops! Pessimo tempismo! Ehi! Chiudi l'armadietto! Wow! È una corona! Ed ecco il mio re! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto se ti piacerebbe diventare regina o re del college! E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella! Non perdete nessun nuovo video esilarante di WooHoo!